Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale A bell'occhi i ladri girano di notte per rubare all'interno delle automobili Visita del Presidente della Repubblica Mattarella nelle Marche Rissa tra albanesi davanti ad un bar nel quartiere di Tombaccio a Fanno Uno finisce all'ospedale Da domani riprendono le asfaltature in diverse strade del comune di Fanno Al via gli incontri per predisporre il nuovo piano regolatore di Colli al Metauro Dopo il telegiornale in diretta il Sindaco Stefano Aguzzi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fanno TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17 C'è Occhio alla Notizia Dunque partiamo dalla cronaca locale con i topi di automobili Quelli che girano sia di giorno che di notte Li hanno avvistati la notte scorsa in un quartiere di Fanno a Bellocchi Non ci sentiamo più tranquilli Si dorme con la paura di svegliarsi al mattino con qualche brutta sorpresa Ramona Rossini parla chiaro ai nostri microfoni questa mattina Dopo il furto del portafoglio del padre avvenuto nella notte scorsa Qualcuno si è introdotto nell'auto parcheggiata davanti al cancelletto di casa Regolarmente chiusa Ed ha portato via dalla tasca dello sportello il portamonete Che il padre come da abitudine lascia lì Con la serenità di chissà di vivere in un posto tranquillo Dove non si immagina certo che ti portino via le cose da sotto al naso Ma non è più così Sono finiti i tempi della chiave fuori dalla porta I tempi in cui la strada era il salotto di casa Anche qui in una via secondaria di Bellocchi Si sentono ostaggio di malintenzionati che vanno alla ricerca del furtarello facile E solo di contanti Lo testimonia il fatto che il portafoglio è stato ritrovato questa mattina presto A 20 metri dalla casa, da una vicina Con tutti i documenti al loro posto Patente, bancomat e persino carte di credito A conferma del fatto che interessano solo e soltanto i soldi Fortunatamente nel portafoglio non c'era niente Perché non lasciamo soldi E hanno avuto insomma un brutto riscontro Non gli è andata bene Non gli è andata bene Non hanno fatto danni E la macchina Non so come abbiano fatto ad aprirla onestamente Perché non sarei capace Quindi si è riscontrato un altro furto di un'apertura della macchina Anche in via 29esima strada Bellocchi Sempre al stesso modo superandi E non hanno portato via niente Se non che un cellulare vecchio E solamente che questa cosa è sconcertante Non si sta più tranquilli nemmeno a casa Non si può lasciare la macchina parcheggiata di fronte alla propria casa E non ci sentiamo protetti Il Presidente della Repubblica Mattarella Oggi ha fatto visita nelle Marche Ha incoraggiato i sindaci I cui paesi sono stati colpiti dal terremoto Mi tenga aggiornato se ha bisogno ci sono Con queste parole Mattarella ha salutato il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera Mauro Falcucci Che gli ha mostrato la zona rossa del borgo maceratese Devastato dal terremoto dell'ottobre dell'anno scorso Gli ho fatto vedere il paese Racconta il sindaco Abbiamo chiesto che ci diano risposte tecniche Sulla microzonazione sismica e sul rischio idrogeologico Dobbiamo dire la verità ai cittadini Se possiamo ricostruire qui oppure no Il Presidente è stato anche a Pievetorina Dove ha preso il caffè nella casetta di due anziani coniugi E ha visso Buon lavoro e coraggio Ha detto il Capo dello Stato Ai primi cittadini del sisma Torniamo a Fano Rissa davanti ad un bar Nella zona di Tombaccia Uno Una rissa tra connazionali Uno di loro è finito all'ospedale Violenta rissa Ieri sera intorno alle ore 19 Davanti al bar Zanzibar Poco prima del quartiere della Tombaccia Lungo la strada che porta a San Costanzo Due uomini di giovane età Di nazionalità albanese Per motivi che al momento non sono noti Si sono affrontati nel piazzale antistante al bar Che ospita anche un distributore di carburanti E ne è scaturita una violenta colluttazione Come ci ha riferito il titolare del bar Presente al momento della rissa Con la commessa del turno serale Osservando la scena dall'interno del locale E' uscito fuori Nel tentativo di separare i litiganti Ma visto che i due non accennavano a calmarsi Ha pensato bene di chiamare i carabinieri di Fano Che dopo pochi istanti Sono arrivati davanti al locale Con due pattuglie I carabinieri però a loro arrivo Hanno trovato sul posto solo uno dei rissosi Con alcune tumefazioni al volto L'uomo è andato al pronto soccorso Dell'ospedale di Fano In codice bianco E dopo un paio di ore di attesa Però si è allontanato volontariamente Senza nemmeno essere visitato da un medico E senza nemmeno sporgere nessuna denuncia Ai carabinieri di Fano Ripresa delle asfaltature Da domani nel comune di Fano E anche il prossimo anno Nel 2018 Toccherà diverse zone Come per esempio quelle della Trave E di via Frusaglia I residenti di via Frusaglia Da tempo chiedono un intervento Dell'amministrazione Per risolvere definitivamente Alcuni problemi infrastrutturali Legati alla mancata urbanizzazione della zona In un comunicato Dei giorni scorsi Chiedono a quando potranno vedere Un nuovo manto stradale Il metano e l'illuminazione Vedere una persona Che durante l'estate Passi a tagliare l'erba Almeno una volta E che non si fermi In corrispondenza Del campo da calcio della Trave Credendo o sperando Che la strada finisca lì A quando vedere una strada Che alla prima pioggia Non si allaghi completamente A quando riuscire a recarsi A scuola O in centro In bicicletta O a piedi Senza rischiare la vita Recita testualmente Così il comunicato Cose per le quali Hanno ormai Dicono Perso ogni speranza Ma stamattina Giungono Dall'assessore I lavori pubblici Cristian Fanesi Parziali Buone notizie Crediamo che Comunque sia Purtroppo la situazione Di via Di Alefrugiaia È questa da tempo E noi ovviamente Nella nostra programmazione Avevamo dato altre priorità Alla cosa Abbiamo inserito Nel 2018 Questa via E quindi la faremo Nel 2018 Ma la Trave Non è la sola zona Dove si interverrà Nel 2018 Da domani Anche se in notevole ritardo Riparte il piano Delle asfaltature Del comune di Fano Domani mattina Inizieremo Con una tecnica A freddo Con un altro appalto Una tecnica a freddo Inizieremo a fare Circa due chilometri E mezzo di strade Attesi da molto Da molto tempo Che sono A San Biagio La strada di San Biagio E poi anche La strada A Valliscende A Camminate Sono due chilometri E mezzo Di strada Che faremo Con una tecnica a freddo Quindi anche Ecocompatibile Sono circa 80.000 metri quadri Di asfalto Che andremo A stendere A freddo Quindi Misteremo Bitume E graniglia Abbiamo Fa parte questo Di un percorso Che abbiamo scelto Per le strade in campagna E che ci sta dando Delle soddisfazioni Ad un costo Anche abbastanza Stretto Quindi siamo Molto contenti Poi domani Insomma Inizieranno questi lavori Tempo permettendoci Concluderanno nel giro Di qualche giorno Dando una risposta Importante a quei posti In periferia Che comunque Sono abitati Frequentati Passano molte macchine E quindi necessitavano Di una manutenzione Straordinaria C'è una notizia Di Cronaca Un uomo Un giovane Di 36 anni È stato trovato Morto Oggi Si chiama La vittima Si chiama Davide Mattioni Originario di Cagli Residente a Fano Ma domiciliato A Mondolfo È morto Probabilmente Per una overdose Di eroina E adesso Attenzione Perché c'è una notizia Che riguarda Il consumo Di filetti Di acciughe In olio Di oliva Perché la catena Eurospin Ha richiamato Un lotto Di questi filetti Che vedete Nelle immagini Filetti di acciughe In olio Di oliva Da 80 grammi Del marchio Atena Per rischio Chimico Il richiamo È stato pubblicato Nell'area apposita Del sito del ministero Della salute Nel prodotto Si legge sul sito Del ministero È stata infatti Rilevata Presenza di stamina Oltre il limite Consentito La raccomandazione È di non consumare Il prodotto E riportarlo Presso il punto vendita L'eccesso di stamina Può scatenare Allergie Nausea E vomito Il prodotto È importato Da Seafish Spadi O spiate Di bollate In provincia di Milano Ma la sede Dello stabilimento È in Marocco Anche il comune Di Colli Al Metauro Si appresta A predisporre Il nuovo piano Regolatore Il sindaco Aguzzi In questi giorni Sta incontrando Le parti Per predisporre Appunto Questo piano Allora Colli Al Metauro Si appresta A vivere Una fase importante Dal punto di vista Dell'economia Inizia un percorso Per il piano Regolatore Sì Come sotto Molti altri aspetti Ancora Colli Al Metauro È suddiviso Spesso Nelle sue funzioni Con le tre Ex municipalità Quella di Sorongarina Quella di Montemaggiore È quella di Saltara Questo anche per i piani Regolatori generali Noi abbiamo Proprio situazioni diverse Da una realtà all'altra Abbiamo indici diversi Previsioni diverse Perché Quando c'erano I tre comuni Giustamente La propria Programmazione La prevedevano Fino ai propri confini E oggi c'è Il rischio Reale In alcuni casi Addirittura ci sono Delle aree Di sviluppo Adiacenti Una all'altra Che magari Se parte una Non va bene L'altra Oppure ci sono Situazioni di viabilità Che arrivano Al confine Di un ex comune E non proseguono Nell'altro Nell'altro versante Ecco Indubbiamente C'è questa grande Esigenza Di rifare Da capo Un piano Regolatore Generale Che tenga conto Anche Della nuova Situazione territoriale Di Colli Al Metauro Oltre che Delle nuove Esigenze Che oggi Ci sono Rispetto a un po' Di anni fa Ecco Lei su questa tematica Ha tenuto anche Un incontro importante Col tessuto economico Sociale Del suo comune Sì Il percorso di un piano Regolatore generale È un percorso arduo Difficile E tendenzialmente lungo Su questo Io vorrei In tutti i modi Coinvolgere Nel miglior modo Possibile Tutti i territori Tutte le persone Tutti i cosiddetti Addetti ai lavori Quindi Abbiamo proprio iniziato Da una Assemblea Che abbiamo tenuto A Montemaggiore Nel teatro di Montemaggiore Invitando tutti i professionisti Geometri Ingegneri Architetti Geologi Tutte le associazioni Di categoria Per illustrare Da parte dell'amministrazione Appunto Le nostre intenzioni Ma per recepire Soprattutto da parte loro I vari punti di vista Su questo C'è stata un'ampia Partecipazione Un ottimo dibattito Io credo Che questo sia solo Una fase iniziale Di percorso Perché poi Dovremmo anche proseguire Indubbiamente Con degli incarichi Esterni A dei professionisti Che studino Questa situazione Che studino Questo programma Questo nuovo piano Regolatore E questo confronto Con le associazioni Con i professionisti Con le imprese Del territorio Con i cittadini Dovrà comunque Continuare Fino a compimento Io deduco L'obiettivo può essere Quello di metà La legislatura Sabato mattina Sabato prossimo Sotto i gabuccini In corso Matteotti A Fano Il Movimento 5 Stelle Promuove l'azione Di ricorso Alla Corte Europea Dei diritti Dell'uomo Per ottenere Il rimborso totale Per gli azionisti Di Veneto Banca Banca Popolare Di Vicenza Banca delle Marche Chi si recherà I banchetti Riceverà tutte Le informazioni Del caso Nessun onorario Sarà richiesto Agli azionisti Che vorranno Intraprendere Questo percorso Perché il procedimento Sarà interamente Sostenuto Dai consiglieri Regionali Del Movimento 5 Stelle Con il taglio Volontario Degli stipendi Parliamo adesso Di sanità Perché la responsabile Dell'Unità Operativa Di Medicina Riabilitativa Di Marche Nord Replica A giovanelli Della Cisle Di Fano Sullo smantellamento Dei servizi Territoriali E tranquillizza Soprattutto I pazienti Del reparto Di fisiatria Dell'ospedale Santa Croce Di Fano Allora Dottoressa Simoncelli Si è creato Un po' di confusione A riguardo Di quel comunicato Della Cisle Che parlava Di servizi Territoriali Di fisiatria Cioè Chiariamo un po' I concetti E cerchiamo Di far capire bene Qual è lo stato Delle cose Sono molto contenta Di poter chiarire Le affermazioni Che sono state fatte Il 3 novembre Ultimo scorso Se non erro Dal signor Giovannelli La dichiarazione Esattamente Riguarda La scomparsa Del servizio Di fisioterapia Presso L'ospedale Di Fano In merito Preciso Che il centro Ambulatoriale Di Marche Nord Ubicato Nel presidio Ospedaliero Di Fano Svolge regolarmente La propria attività Prendendo in carico Pazienti in fase post-acuta Con disabilità Multiple e complesse Di ordine neurologico Come ictus cerebrali Oppure di ordine ortopedico Come artroprotesi Di anca E di ginocchio Nonché disabilità Di ordine cardiologico Tipicamente Gli esiti Di infarto Del miocardio Naturalmente La nostra attività E qui E' importante Precisarlo In coerenza Con quello Che è il mandato Di un'azienda Ospedaliera Perché oggi Noi siamo Un'azienda Ospedaliera Non è rivolta Al paziente Con disabilità Cronica E in questo Si inserisce L'intervento Del signor Giovannelli Ma per questa Problematica È doveroso Fare riferimento Ai servizi Territoriali Dell'Asur Dell'Area Vasta 1 E non All'azienda Marche Nord Che sono due Aziende diverse Con funzioni E finalità Diverse Le nostre risorse Sono e devono essere Infatti impiegate Nella gestione Riabilitativa Dei pazienti Ricoverati Nelle unità Operative per acuti Nei reparti Per acuti Di Fano Di Muraglia Di Pesaro Ed è quello Che facciamo E inoltre Nella presa in carico Dei pazienti Ambulatoriali Ma pazienti Post acuti Pazienti Che sono ancora Entro i 12 mesi Dall'evento Acuto Ricordo Da ultimo Che sono state Dall'inizio Dell'anno Seguiti Numerosi pazienti 1100 Pazienti Ambulatoriali E 1650 Pazienti Ricoverati Pertanto Non si tratta Di un servizio Né scomparso Né in fase Di scomparsa Intendo così Rassicurare Quegli utenti Che si sono presentati Dopo l'intervista Del signor Giovanni Giovanelli Al nostro servizio Molto preoccupati E adesso parliamo invece di carnevale Perché è stato Accolto Dalla camera Dei deputati L'ordine del giorno Che richiedeva A sostegno Dei carnevali Storici nazionali Un apposito Contributo annuale Previsto all'interno Del fondo unico Per lo spettacolo E la prima firmataria Di questo provvedimento Che è stato appunto Recepito oggi All'interno del nuovo Codice dello spettacolo È Lara Ricciati L'onorevole Fanese Lara Ricciati Che è collegata Con noi al telefono Buonasera Buonasera a lei Allora dunque Intanto Parlare di Fondi A disposizione Per un carnevale Importante come quello Di Fano Può essere una buona notizia Chiaro Ancora siamo All'inizio Perché è soltanto Come dire Siamo nella fase Embrionale Di questo provvedimento Però che cosa Potrebbe accadere Beh intanto Possiamo dire Che questo provvedimento Questa delega Il governo Sulla riforma Diciamo Dello spettacolo È stata approvata E il governo Oggi si è impegnato Come ha detto lei Prima A finanziare Attraverso il fondo unico Per lo spettacolo Anche i carnevali storici Fra i quali Rientra Anzi forse La fada padrona Diciamola così Il carnevale di Fano Questo significa Che bisognerà intervenire Nella legge di bilancio Ovviamente Richiamando L'approvazione Di quest'ordine del giorno Chiedendo al governo Di stanziare dei fondi Per finanziare Appunto I carnevali storici Ecco Trasversale Perché In maniera Ovviamente Patriotistica Noi viviamo Fano Pensiamo al carnevale di Fano Ma ci tratterà di lavorare Insieme alle colleghe E colleghi Di Viareggio Di Cento E degli altri Diciamo In realtà Che ospitano Carnevali storici Per far sì Che all'interno Della legge di bilancio Possano essere previsti Dei fondi Per finanziare i carnevali Ecco Sento onorevole A livello di tempi Di tempistica Sappiamo che i tempi Insomma Dello Stato Sono un po' più lunghi Rispetto a quelli Invece questa volta La stupirò Perché sa La legge di bilancio Viene approvata Entro fine anno Quindi diciamo Che entro la fine di dicembre Sapremo Se il governo Stanzierà o meno Questi fondi Oh Le voglio chiedere Lei Sa che a Fano E' stato Il prossimo anno Si pagherà un biglietto D'ingresso Per entrare al carnevale Dopo tantissimi anni Lei è d'accordo? Io immagino Che servano le fondi All'ente carnevalesca E quando parliamo Di crisi Immagino ad esempio Agli sponsor privati Immagino che questa crisi Abbia coinvolto Anche l'ente carnevalesca E allora Vede Se noi chiediamo Un carnevale di qualità Con dei carri sempre nuovi Con un copioso gettito Con la possibilità Di far divertire Ma al tempo stesso Far stare in sicurezza Diciamo I turisti E i fanesi Che vanno al carnevale Io immagino Che se ognuno Fosse chiamato A dare Un piccolo contributo Per poter fare Ancora bello Il carnevale di Fano Penso diciamo Che potrebbe essere Una cifra sostenibile Nel momento in cui La carnevalesca Offrirà Ma di questo Ne sono sicuro Un carnevale di qualità Senta ma lei La tessera della carnevalesca Ce l'ha onorevole? Assolutamente sì Ho la tessera onoraria Quindi allo sconto Va bene Grazie Buon lavoro Grazie a lei Buona serata Grazie Buona serata Allora Il tempo di un break Pubblicitario Ci ritroveremo Tra poco Perché qui In questo studio Ci sarà in diretta Il primo cittadino Di Colli Al Metauro Stefano Aguzzi Vi ricordo Che da questo momento in poi Potete contattarci Sia per andare in diretta Allo 0721 86 14 33 Sia per mandarci i vostri messaggi Al 338 49 68 250 Bene Queste dunque le indicazioni Per mettersi in contatto con noi Ci salutiamo qui Ci vediamo tra un istante Restate con noi Grazie 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 Grazie